o ri benvenuti in un nuovo video e vabbè si effettivamente non avevo staccato ancora la registrazione cioè ho staccato la registrazione però non ho staccato il video continuato da dove l'avevo lasciato questo lo lasciamo qua allora fai la doccia non è che devo andare a lavorare questo scrivi no subito dai fai se non ancora sto carezza la cosa che cacchio che vuoi e dai è comprensibile quello che c'è scritto qua dai che puoi dire allora vediamo se posso comprare tipo uno strumento qualcosa del genere strumento 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 attività di manualità questa come città logica mixologia mixologia un po' il troncino nera nera se tipo voi invece a dire no ma davvero nero non si sarebbe mai detto che lo faceva così allora appena torno bollette non ce ne stanno esercitati basta stanna mamma mia riprendendo riprendendo classico piccolo che ha fatto non lunge non non nel non che non non di rosa e pulisci qua benita la traccia la traccia la traccia la traccia almeno così qualcuno è felice dai ma perché uno va non trovi se c'è chiuso eccala allora allora mi sa che da come cammina deve andare più in bagno che mangiare quanto dura 4 ore a 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 eccola si è spasciato pure riprendi a a a a a a a a a romantico è in bagno mamma mia il luogo migliore non c'era a lavoro or 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 olle m tra due giorni quindi per ora potrebbe 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 scrivi riprendi scrivere accarezzando il tasso a a a a a a annagio troppo che sarei a livello a livello di scrittura a 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 non mi ricordo adesso come si chiama quella tizia però quella spettrale diciamo poi la doccia riflessiva vai promosso immaginista anche ha ricevuto il secondo bonus vas di girasoli noi parti cus che cus? che ha detto? mamma mia un canterino nome gip see haha amico nevole tch mentre trasporto cosa ho letto ma boh no 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 dopo questa me ne vado quindi ciao ciao alla prossima ciao